Potrebbero sorprendere la difesa in contropiede. Palla a cercare la possibilità. Si è fatto trovare pronto, scattando al momento giusto. Roberto Baggio. Bella. Colpisce il pallone. Palla in fondo alla rete. Vantaggio di due gol. La partita si mette in discesa. La difesa era ben schierata, ma è riuscito comunque a trovare lo spazio e a insaccare. Che giocatore. Gli avversari non lo lasciavano respirare, ma lui se li è mangiati. Ha dimostrato classe e ottima forma fisica.